Il mare potrebbe trasformarsi all'improvviso in una fonte di pericolo. Per questo, per scongiurare tragedie e venire in soccorso, sono i cani da salvataggio. Così a Biceglie, nei pressi dello scivolo tra via e la spiaggia e la frazione iniziale di Via della Libertà, è andata in scena l'attività di addestramento in mare delle unità cinofile, accompagnate dai volontari. A promuovere l'iniziativa è stata la società Biceglie a Prodi, con la collaborazione della scuola Cani Salvataggio Nautico di Bari, attiva da anni nel campo della sicurezza in mare. Il mare è un grande amico, però io dico sempre, improvvisamente può rivelarsi il nostro peggiore nemico, quindi bisogna approcciarsi con grande rispetto al mare. Le unità cinofile servono anche a scongiurare eventuali danni. Diciamo che in tanti anni di attività sulla spiaggia barese abbiamo salvato tante persone, lo possiamo dire con orgoglio, siamo una gran bella realtà ormai operante su varie province che dà i suoi frutti, sia dal punto di vista del salvataggio in mare che dal punto di vista proprio dell'accoglienza alle persone diversamente abili. La seduta di addestramento in mare delle unità cinofile di salvataggio rappresenta solo un tassello delle tante iniziative rientranti nel ricco programma di manifestazioni del 2019 della società Biceglie a Prodi. È il primo degli eventi in una programmazione dell'anno 2019 che abbiamo definito MacBot 2019. Mac sta per musica, arte e cultura e ovviamente anche queste attività di salvamento in mare costituiscono uno degli aspetti che caratterizzerà questa stagione 2019 della Biceglie a Prodi. Stiamo andando verso il concetto di marina resort, cioè la possibilità di utilizzare le imbarcazioni come resort, come bed and breakfast in mare, che dà la possibilità di utilizzare le strutture della Biceglie a Prodi e quindi le imbarcazioni dei portisti, non solo come momento di svago e di diporto in mare, ma anche come possibilità di dormire nell'imbarcazione e utilizzare queste strutture in modo un po' più ampio. E a sostenere fortemente l'iniziativa è stata l'amministrazione comunale di Biceglie nell'ottica di promuovere la cultura della sicurezza in mare. Stiamo attrezzando per garantire non soltanto quella che è la sicurezza a terra, ma anche quella che è la sicurezza a mare. E quindi questa è una bella dimostrazione di quello che eventualmente si potrebbe offrire come servizio, non soltanto con la società di salvamento, non soltanto con la società Baywatch, ma anche attraverso i nostri amici a quattro zampe che oltre ad essere efficaci sono anche molto belli da vedere all'interno di questo contesto.